Sono Emanuele De Nobili, sono un medico e direttore sanitario dell'Eden Self di Merano e mi occupo di longevità in salute. Ho avuto la fortuna di conoscere la scorsa primavera Estrai, un dispositivo che permette in soli 12 minuti di ottenere tutta una serie di dati sull'epigenetica e soprattutto nella mia attività dove vedo i pazienti per una settimana perché lavoro in una struttura collegata a un albergo dove le persone alloggiano per 7 giorni e mi viene richiesto chiaramente di poter dare dei consigli per, come dicevo, una longevità in salute. Estrai, come dicevo, in 12 minuti mi permette di ottenere una serie di valutazioni a livello di sistema cardiocircolatorio, sistema immunitario, sistema gastrointestinale, equilibrio microbico, sistema emozionale, stress e soprattutto anche mi dà eventualmente delle priorità per carenze di vitamine, minerali, antiossidanti e questo, visto che nella mia attività pratico anche delle terapie endovenose, chiaramente posso farle mirate dando quello che effettivamente manca. Non tornerei più indietro perché in un anno ho più di 700 ormai test eseguiti e questo mi ha permesso anche di acquisire una certa esperienza e nel giro di qualche minuto incrociare i dati che emergono dal report e riuscire a fare una sorta di diagnosi anche se, diciamo, il S-Drive non è effettivamente un test diagnostico ma il medico, grazie all'anamnesi, incrociando anche vari dati provenienti da altri testi, io faccio esami del sangue, esami genetici, microbioma intestinale, riesco a personalizzare quello che poi è il mio percorso di salute verso i miei pazienti. Qui è una delle cose S-Drive che io raccomanderei a tutti perché a me ha cambiato veramente il mio approccio al clinico in tempi veramente brevi, non avevo la possibilità di aspettare troppi giorni perché altrimenti veniva meno il concetto di ottimizzare nei sette giorni e la vacanza di salute presso il centro di Leiden di Merano.